Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parleremo di Leonid Rogozov, l'incredibile storia del medico che si operò di appendicite da solo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale di Vanilla Magazine. Leonid Rogozov, dottore in medicina generale, partecipò alla sesta spedizione antartica sovietica negli anni fra il 1960 e il 1961. Era l'unico medico presente presso la stazione di Novo Lazarevskaya e, mentre era lì, fu costretto a eseguire un intervento di appendicectomia su se stesso, un famoso caso di autochirurgia. Nel 1961 Rogozov era a distanza in una base russa di nuova costruzione in Antartide. I dodici uomini della spedizione erano completamente isolati dal mese di marzo a causa del lungo inverno polare. La mattina del 29 aprile 1961 Rogozov avvertì dei sintomi di debolezza generale, nausea e febbre moderata, e più tardi anche dolore nella parte inferiore e destra dell'addome. I sintomi erano quelli classici dell'appendicite acuta. Sapeva che per sopravvivere doveva subire un intervento, scrisse il British Medical Journal, ma si trovava in condizioni di frontiera in una colonia antartica di nuova fondazione sull'orlo della notte polare. Il trasporto era impossibile e alzarsi in volo era fuori questione a causa delle tempeste di neve. E c'era un altro problema, era l'unico medico della base. Rogozov scrisse sul suo diario, sembra che io abbia l'appendicite. Sto tacendo su questo anche sorridendo. Perché spaventare i miei amici? Chi potrebbe essere di aiuto? L'unico incontro di un esploratore polare con la medicina è stato probabilmente sulla sedia di un dentista. Il medico tentò tutte le cure che aveva a disposizione, antibiotici, raffreddamento locale, ma le sue condizioni generali peggioravano. La temperatura corporea aumentava e il vomito diventava sempre più frequente. Non ho dormito tutta la notte, fa male come il diavolo. Una tempesta di neve sferza la mia anima, gemendo come cento sciacalli. Ancora non c'è nessun sintomo evidente che la perforazione sia imminente, ma la sensazione opprimente di un presentimento mi attanaglia. È questo. Devo pensare all'unica via d'uscita possibile. Operare me stesso. È quasi impossibile, ma non posso incrociare le braccia e rinunciare. Rogozov non aveva altra scelta che eseguire l'operazione su se stesso. L'intervento iniziò alle due, ora locale, il primo giorno del mese di maggio, con l'aiuto di un autista e di un meteorologo che passavano gli strumenti e tenevano uno specchio per consentire la visione dell'area da operare. Rogozov aveva assunto una posizione semisdraiata, leggermente inclinata sul fianco sinistro. Dopo 30 o 40 minuti dall'inizio dell'intervento, Rogozov cominciò a fare brevi pause, a causa della debolezza generale e delle vertigini. Comunque riuscì ad asportare l'appendice gravemente infiammata, poi applicò degli antibiotici nella cavità peritoneale e richiuse la ferita. L'operazione durò 1 ora e 45 minuti, durante i quali i suoi aiutanti scattarono qualche fotografia. Questo il racconto del medico. Ho lavorato senza guanti, era difficile vedere. Lo specchio aiuta, ma ostacola anche e mostra le cose al contrario. Io ho lavorato principalmente attraverso il tatto. Il sanguinamento era abbastanza pesante, ma io mi sono preso il tempo necessario per cercare di lavorare in sicurezza. Aprendo il peritoneo, ho danneggiato l'intestino cieco e ho dovuto ricucirlo. All'improvviso un lampo balenò nella mia mente. Ci sono molti infortuni qui che non ho annotato. Divento sempre più debole. La mia testa inizia a girare. Ogni 4 o 5 minuti devo riposare per 20 o 25 secondi. Infine ecco l'appendice maledetta. Con orrore ho notato la macchia scura alla base. Ciò significa che solo un giorno di più e sarebbe scoppiata. E il momento peggiore è stato rimuovere l'appendice. Il mio cuore era bloccato e notevolmente rallentato. Sentivo le mie mani come fossero gomma. Beh, ho pensato che stava andando a finire male. E tutto quello che rimaneva da fare era rimuovere l'appendice. Poi mi sono reso conto che, in fondo, mi ero già salvato. Dopo l'operazione le condizioni generali di Rogozov migliorarono gradualmente. La temperatura corporea tornò alla normalità dopo 5 giorni e i punti di sutura furono rimossi sette giorni dopo l'intervento. Nel giro di due settimane il medico riprese la sua vita normale. Nel 1961 Rogozov fu insignito dell'ordine della bandiera rossa del lavoro. L'autointervento di Rogozov rimane un esempio di determinazione e volontà, anche se negli anni successivi il medico respinse tutte le glorificazioni della sua azione. Quando qualcuno ne parlava, di solito rispondeva con un sorriso e queste parole. Un lavoro come un altro, una vita come tutte le altre. Nell'ottobre del 1962 Rogozov tornò a Leningrado dove, nel settembre del 1966, si specializzò in chirurgia, con una tesi dal titolo «Ressezione dell'esofago per il trattamento del cancro esofageo». In seguito lavorò come medico in vari ospedali della città e dal 1986 al 2000 ebbe l'incarico di direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Istituto di Ricerca per Tubercolosi e Pneumologia di San Pietroburgo, quella che era Leningrado. Rogozov morì nel 2000 all'età di 66 anni a San Pietroburgo, in Russia, per un cancro ai polmoni.